Bene, lei è al corrente della situazione. Vabbè. Un tentativo di compromesso in questo momento mi sembra del tutto fuori luogo. Vabbè sì, in questo momento... Ne parliamo dopo, dopo, dopo. Come? Dopo. Dopo forse sarà impossibile. Come impossibile? Io devo mettermi in una posizione disponibile per ambedue le parti in causa. Eh, tutta grazie! Ambedue le parti! Scusi? Ambedue le parti! Bene, comandatore, veniamo al punto. L'affare si è ingrossato da quando l'ho preso io e me. Brava! Così ci dobbiamo parlare. Non possiamo più tornare in giro. Dobbiamo andare fino in fondo. In fondo, in fondo, in fondo! Lei è disposto? Altro che disposto!